29 luglio 1900, il re Umberto I di Savoia viene ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci, che gli spara contro tre colpi di pistola. L'assassinio avviene sotto gli occhi della popolazione festante. Bresci si lascia catturare senza opporre resistenza. I carabinieri debbono proteggerlo dal linciaggio della folla inferocita. Emigrato tempo prima a Patterson, nel New Jersey, Bresci era rientrato con il preciso intento di uccidere il re. Intendeva vendicare la strage avvenuta a Milano nel 1898 di manifestanti che reclamavano l'abolizione della tassa sul pane imposta dal regno sabaudo. Il re d'Italia Umberto I viene ucciso a Monza il 29 luglio 1900 con tre colpi di revolver. L'assassino si chiama Gaetano Bresci. Umberto è il secondo re d'Italia dopo l'unità. Ha 56 anni ed è sposato con la cugina Margherita di Savoia. Viso triste e grandi baffi bianchi, Umberto I è stato soprannominato il re buono, ma molti storici si mostreranno più tardi scettici circa la bontà del suo regno. Di carattere chiuso, poco colto e di intelligenza limitata, Umberto I è un rigido assertore delle prerogative reali, aizzato dalla moglie a lui culturalmente assai superiore, ma fautrice a sua volta di una concezione autocratica della monarchia sabauda. Prima dei colpi fatali di Bresci, Umberto I ha già subito due attentati andati a vuoto, quello di Passanante a Napoli nel 1878 e quello di Acciarito a Roma nel 1897. La maggiore tragedia dei suoi primi anni di regno è stata la sfortunata campagna coloniale in Etiopia del 1896, conclusasi con una delle più sanguinose sconfitte nella storia d'Italia, quella di Adua, dove oltre 4.000 soldati italiani finirono massacrati dall'esercito del Negus. Gaetano Bresci, l'attentatore del 1900, era un operaio tessile di 31 anni, anarchico fervente. Questa è la casa dove era nato, a Coiano, un soborgo di Prato. Aveva cominciato a lavorare in questi capannoni, oggi abbandonati, che la gente di Prato continua a chiamare, come allora, il fabbricone. Ma la fase italiana della vita di Bresci era durata poco. Verso la fine dell'Ottocento l'America appariva a molti italiani poveri come la terra promessa, un luogo di cui si sapeva poco, ma che sembrava offrire infinite possibilità di fare strada e diventare ricchi in poco tempo. Anche Bresci si era lasciato sedurre da questo mito ed era così approdato oltre oceano, seguendo la classica trafila di tutti gli emigranti, l'imbarco su navi sovraffollate, il viaggio interminabile, la statua della libertà, le umilianti procedure di ammissione e poi il duro risveglio dal sogno in una società disposta a concedere qualcosa solo in cambio di durissimi sacrifici. Bresci era finito a Paterson, nel New Jersey, un centro industriale che pullulava di fabbriche tessili. Qui l'anarchico di Prato aveva trovato lavoro e si era incontrato anche con molti compagni di fede, diversi dei quali erano, come lui, immigrati da varie parti d'Italia. Lavoro duro, condizioni di vita misere, ma anche un senso nuovo di libertà. A Paterson gli anarchici italiani possono incontrarsi e riunirsi senza l'incubo della polizia, dell'arresto, del processo, del carcere. Siamo alla fine dell'Ottocento e la grande caccia alle streghe contro i sovversivi italiani, che qualche decennio più tardi porterà sulla sede elettrica Sacco e Banzetti, non è ancora cominciata. È in questo clima che nel 1898 giungono dall'Italia notizie terribili di repressioni, di morti e di stragi. È la risposta del generale Bava Beccaris ai moti popolari di Milano, che si concluderanno con il sanguinoso bilancio di 80 morti e 450 feriti. La strage suscita emozione e lascia perplessi molti italiani anche di orientamento moderato. Mai re buono, anziché cercare una riconciliazione nazionale, elogia l'azione decisa di Bava Beccaris e gli concede una decorazione. È forse in questo gesto provocatorio la molla che farà scattare a migliaia di chilometri di distanza, al di là dell'Atlantico, il progetto di regicidio. La mano di Bresci è ferma. Il re, colpito al cuore, oltre che alla spalla e al polmone, muore prima di arrivare all'ospedale. Bresci è catturato sul posto, malmenato, trascinato in guardina e assicurato al tavolaccio con una catena. Al processo sarà condannato all'ergastolo con sette anni di segregazione cellulare. Grazie